Se vuoi rigare bene il tuo giardino, se vuoi rigare bene le tue piante, devi avere degli ottimi prodotti. Se volete acquistare i prodotti per l'irrigazione una volta solo, probabilmente come in un matrimonio, quasi quasi nella vostra vita, affidatevi a prodotti di qualità, perché molto spesso quando si comprano delle attrezzature non di altissima qualità, qual è il risultato? Perdono acqua dappertutto, dopo un po' si staccano dei pezzi e quindi è sempre meglio acquistare un prodotto e spendere qualcosina in più, però acquistare un prodotto di ottima qualità. Questo nel tempo si rivelerà molto più economico, quindi se voi venite a trovarmi vi posso offrire la linea della Stalker che da sempre si distingue per avere i prodotti di ottima qualità e tutto quello che vi può servire per il vostro giardino, per irrigare, per dare acqua o concime, io ve lo posso offrire. Qui da me troverete tutto quello che è necessario, dagli irrigatori, come vedete qui, alla raccorderia di alta qualità, alle lance di diverso tipo per le diverse esigenze, ma anche gli avvolgitubo e anche le gomme per l'irrigazione. Ricordatevi che avere degli ottimi strumenti è necessario per poter ottenere degli ottimi risultati. Venite qui, ci confronteremo e poi uscirete, se vorrete, con il prodotto più giusto, più idoneo per il vostro prato, il vostro giardino. Ciao a tutti e buona irrigazione!